Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. 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 Io le vorrei soltanto chiedere se lei conosce effettivamente il valore del denaro. Grazie. Io la ringrazio di questa domanda perché è un principio fondamentale. La moneta valore, perché come ha detto Aristotele, la moneta è la misura del valore. Siccome ogni unità di misura ha la qualità corrispondente a quello che deve misurare, come il metro ha la qualità della lunghezza perché misura la lunghezza, la moneta ha la qualità del valore perché misura il valore. Questo significa che la moneta non è solo misura del valore, ma anche valore della misura che è il potere d'acquisto. Come il metro non è solo misura della lunghezza, ma lunghezza della misura perché è lungo un metro. Quindi quando abbiamo capito questo abbiamo capito che il valore della moneta è creato per convenzione sociale. Cioè la moneta valore per il solo fatto che ci mettiamo d'accordo che lo abbia. Come è avvenuto con il Simec a Guardia Greta. A Guardia Greta abbiamo creato valori monetari per convenzione. Ci abbiamo creato con la carta il valore dell'oro. E naturalmente è importante perché ci fa capire che questo principio, una volta collaudato in un esperimento scientifico che è stato quello di Guardia Greta e del Simec, può essere ormai ripetuto anche in grandi dimensioni. Siamo per la proprietà popolare della moneta. Oggi la moneta nasce di proprietà della banca che la emette prestandola ai cittadini. Noi vogliamo che nasca di proprietà dei cittadini e che sia accreditata ad ognuno come reddito di cittadinanza. Noi vogliamo che nasce di proprietà dei cittadini e che sia accreditata ad ognuno come reddito di cittadini.